Ciao a tutti ragazzi, qua Androne è con me Just Tiger E niente, oggi siamo a Tabù A Tabù, e cos'è stato a Tabù? Praticamente Tabù È un gioco in cui ovviamente Dovemmo fare delle domande E noi dobbiamo indovinare queste domande Non sono proprio domande, sono delle parole Noi dobbiamo cercare di capire all'allievo Ovviamente allievo Allievo, allievo All coglione, dai All coglione Che deve riuscire a indovinare queste parole Senza che noi dobbiamo dirlo ovviamente E certamente La parola esatta Cioè tipo, ci sono delle paroline E noi le dobbiamo indovinare Cioè senza farglielo Dobbiamo cercare di farglielo capire ovviamente Perché se lui non lo capisce Poi ovviamente Sono nella merda E niente, iniziamo Ovviamente Le impostazioni sono queste Vabbè comunque ragazzi Scusate se sono mancato dopo molto tempo Perché non ho avuto tempo di fare video ovviamente Mi dovete scusare E diciamo che almeno Ho trovato finalmente un po' di tempo Che è per fare questo video Sto facendo tutto il possibile per farlo Ovviamente grazie a lui Poi è sposato quindi L'ho sposato, sì mi sono maritato Ah, se ti ricordi già quel video Quando eravamo su amico Ti avevo detto che ero fidanzato E io mi sto frequentando Non chiedetemi perché mi sono sbarbato Ma non ci fate cosa Vabbè Tornando a tabù ovviamente Qua c'è una delle impostazioni Questo è il gioco Se si vede Ok La squadra Allora Squadra che indovina Squadra rossa Turno 1 Allora Piange Piangere No Come si dice Commuovere No Piange Triste Eh Tristezza Sì Lezzo Cosa c'è a terra Pattone No Terra Quando metti qualcosa sopra Sopra Eh Metti sotto Come si dice Non lo so Cambia Cambia Puoi cambiare Cambia Giovane No Non lo posso dire Come una Quando una persona Cresce Diventa Matura Maschile Eh Maturo Eh Ah 2 a 3 2 a 3 No Non si capisce un cazzo Cambia 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 Poi puoi cambiarlo Perché tanto No è difficile Cambia 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 È un alcol È un alcol Vodka No D'altro Eh Non lo so Era a Roma Comunque Vaffanculo Vabbè ragazzi Qua il nostro caro Just Tiger Ovviamente Ha fatto 2 punti Quindi 2 a 0 2 a 0 Ovviamente Il punteggio finale Ragazzi Quello complessi È quando finiscono Entrambe le sfide Certo sì È in un uccello Non è il pisello No Evitiamo Cosa è fatto l'uccello Cosa gli cadono Jume Sì Cazzo Ok Allora Quando tu sei malato Troppo malato Tu cosa succede Cosa succede No Nel tuo stomaco Cosa succede Che cazzo Cosa 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 Dai Rabbia Sì Dai Come il mio video Vaffanculo Vedi clickbait 3 a 2 Allora Eh Pai No L'ho detta Eh Associazione Polizia Vabbè Cos'era Vabbè 3 a 2 Prima sfida Vince Androne Vabbè E' detto che ha vinto Lo inizio io Perché Allora Eh Non lo posso dire Quando la professoressa Ovviamente spiega E' quando prende Quella cosa Bianca Gesso Giusto Sabbia Stavo pensando Malissimo Nell'aria Quando Cambia il tempo C'è un Sdilluvio Sdilluvio Dilluvio Dilluvio No un altro E' tempo E' cambia il tempo Come cazzo Devo dire Vabbè E' cambia 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 Sostituzione Medaglia Ok Vabbè Questa Sdilluvio Quando senti freddo Cosa Giacca No Felt E' una cosa Che Camicia Ti copri No E' una cosa Che ti copri Cappotto No Lo so Giubbotto No Cambia 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 Niente C'è 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 Troppo Complicata Questa Domanda Che comunque Tu a zero Per me Per me Per me Ok Iniziamo Quando tu compri Un qualcosa Di molto Molto Bello Sai Coscoso Esatto Coscoso Ok Corna Che sei Un cornuto Cos'è Quella È Un simbolo È Il simbolo Di qualcuno No Non 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 Lucifero Cos'è Lucifero Cos'è Lucifero Sì Non Non Il gatto Ok Allora Eh Quando Qualcosa Evapora Tipo Nel pentolone Non È Penso Tipo La pasta Come Si Dice Quando C'è La pasta E Quando C'è Caldo C'è Il gas No 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 Evapora Evapora Vapora C'è Riccino Prima Con La Inizia Con La B Sì Bombola No No Non La Evapora 2 a 2 Questa parte Finisce Il pareggio Quindi Un punto Per parte Quindi 2 a 1 Inizia Tu Allora Quando Una cosa Il contrario Di Solido Cazzo Tu Quando Una cosa È Tipo È Bagnata No È bagnata La cosa Come si dice Non ci Penso Inizia Con La L Il contrario Di Solito Un Un È Duro E L'altro È No Cancia Va Minchia Sono Terminate Le Domande Sì Ora Dobbbero Ora Sbaglio Perdi Ora Non lo so Tutto Questa È Impossibile Te l'ho Vinto Sbagliato Perché È Impossibile Io Non Non so Dire Non Coglio Perché Non Aspetta Cos'era No Non Lo so Era Su Fisso Come Cazzo Ma Che Cazzo Di Frase Su Fisso Che Sta F*** Come Cazzo Tu Spiegato Cioè Dico Miraceno Si Trova Quando Prepari Il Tavolo È Uno Strumento Che Ti Serve Per Mangiare Piatto No No È Uno Strumento Che Serve Per Mangiare Che Cos'era Allora Questo Fa Parte È Un Personaggio Dalla Marvel Fireman Ecco Bravo In Dovino Da Primo 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 Dovino Allora Quando Viene L'ambulanza Cosa Fa Di Preciso Cosa Ha Il Loro Mestiere Curare Curare Esatto Bisogna Prestare Molta Attenzione Quando Uno Ti Fotte Qualcosa In Casa Rubano Il Nome Della Della Persona Che Ti Ruba Ladro No Inizia Con Un Altro Tipo Uno Che Ti Ruba Tipo I Soldi Tipo Uno Che Ti Imbroglia Un Ladro Un Farabutto Ecco Cos'è Non lo So Non C'è L'arrivo Comunque Nella Fine 3 3 1 Sì Esatto 3 1 Quindi Ha Vinto Androne Quindi per questa challenge ragazzi è finita al termine La taboo challenge è finita Spero che vi sia piaciuto ovviamente Questo gioco ovviamente si chiama taboo Vi lascio il link sotto in descrizione se volete scaricarlo Si trova in app store ovviamente E appunto sui dispositivi android Quindi che si trova E niente ragazzi Beh spero che questo video vi sia piaciuto Se volete carico un altro video anche con lui Oppure da solo Perché per ora per il momento Non ho ancora dei progetti Ancora non sto facendo nulla Quindi Vi dispiace dirvelo Ma ancora non sono pronto Per una carriera Vero su youtube Io comunque E tanto quando capita Il tempo a disposizione Carico video E mi diverso ovviamente Conti aspettare E se volete vi lascio anche il link Sotto in descrizione Del suo nuovo video Che ha caricato E con rabbia Oggi mi arrabbiato Della sua nuova canzone ovviamente Beh e niente E niente ragazzi Quindi è tutto Lasciate un like Lasciate un commento Androne è tutto E comprate io E comprate io Ma che cosa Non c'entra io Dai Yolo Questo Yolo Yolo Co Yolo Yolo Ciao ragazzi Ciao bella Ciao bella